Siamo a 1.500 dell'istituto e quindi anche qui in centrale ci hanno chiuso laboratori di fisica e chimica perché i ragazzi adesso stanno lì, è la loro aula bella. E poi abbiamo anche occupato perché appunto la buona scuola, questa buona scuola a noi non piace perché in un certo punto mette gli studenti diciamo in una piramide e lo mette in cima allo studente però secondo me questa piramide viene rovesciata e noi siamo sotto perché da oggi a domani le scuole diventeranno private non saranno più pubbliche, già i presi decidono chi è, chi deve essere il professore, chi meno ma se la scuola è pubblica poi dobbiamo pagare anche tutte queste tasse, paghiamo grandi somme per i libri non mi chiedo perché, noi protestiamo anche per questo. Grazie a tutti